Però l'unica cosa che io vi dico, anche la signora, la grande amica collega, grande artista del piano bar, non funziona. Il telefono se non si mette il gettore non funziona, il gelato se non c'è il cono non è gelato, l'artista se non ci sono le mani non è un artista. Insieme a voi, con la vostra collaborazione con le mani, mi dovete aiutare immediatamente a cacciare fuori tutto in malengua, ok? Se no io mi fermo, lo so che a voi non mi interessa, ma manca a me, mi sono spiegato, sono lì, non c'è la pace, non c'è sì che sono fatti. Questa signora non è bene, eh? Per venire qua questa signora si è preparata, ha detto, l'amore possiamo scendere, tanto Maria non c'è, sono le persiani abbassate. No, ma li stanno guardando anche i persiani, Maria è un fai, è una pertivolenza, è una malalengua, a noi con i mitoni farò se ci ciuè, sì o no? Sì! Sì, non ci sento, sì o no? Sì! Sì, non ci sento, sì o no? 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 Sì, non ci sento. Sì, non ci sento, sì o no?